Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sempre su Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Dobbiamo iniziare la parte di Sasuke Quindi direi subito di iniziare, Sasuke si fa avanti Credo che sarà come quello di Naruto che arriva, scende così Si infatti identico, un fulmine si abbatte Ah ma in realtà è ancora in vita e sta parlando lui Ah no, anche lui Sì, non è ancora iniziare Non c'è male, Vivi Tu sei... Che... Ciao, Utsuratoonka Che... 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 C'ha il suo filone di storia Perché alla fine Confronto ai filoni di Naruto Cioè dura Niente Proprio Stato decisamente veloce Ok Ora puoi accedere a Il Team Taka si spinge avanti 6 minuti Sì è proprio un cazzo proprio Confronto a Naruto Dura niente Iniziamolo subito Così Arriviamo alla parte più importante del gioco Sì Si deve combattere con Orochimaru? Ok, sconfiggi Guruguru Arte ninja di Hiruzen, 20 colpi, tecnica superma Iniziamo subito con questo Perfetto Non è proprio il mago C'era una combo da 20 Infatti Ok, dobbiamo Oddio Non pensavo che avrei combattuto insieme al mio assassino Ahia Mi sento un po' come mi da la parla Con Sarkobi è stato molto più facile Mi cazzo Però una volta fa qualcosa di buono Beh, è stato velocissimo come combattimento Che strano avversario, ma ho aperto una nuova via Wow, le frasi Wow Boh, sembra che Sasuke l'hanno lasciato un po' da parte Sassuke! Chi è qui? Sassuke, cosa faccia? Sassuke... 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 Sassuke! 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 Eh, sì? Perché lo sta curando, lo sta aiutando, Karin. Non è proprio io. Non mi piace di più di Sassuke. E... allora, Kavuto, tu che... Sassuke... Sassuke... Ma è la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia... E la mia, la mia, la mia... Sassuke... È... è vero... Ma che sei, Cabuto, la tua vita è solo che la tua vita ha detto che la tua vita di Izanami. Sì, non è vero. Noi non sapevo chi era da me. Ma Izanami ha detto che la tua vita di me ha detto che la tua vita di Izanami era. Non è un altro, non è un Cabuto. Wow, tutti che si ridimono un po' alla fine, eh? Fa un po' ridere la cosa. Il Team Taka si spinge avanti, capitolo finito. Beh, veloce come si era anche letto da lì sotto, sei minuti. È stato molto veloce. Il ricco. Ok. Il capitolo principale dura tantissimo e lo riserverò per un episodio intero, visto che sennò arriviamo a 40 minuti di video, sono veramente lunghi. Direi quindi di farci questo capitolo secondario. C'è un po' ridere. Non riesco questo, ma non riesco. Dopo aver capito, non riesco a farlo. Non riesco a farlo sempre. Non riesco a farlo. Mi sono sempre scoperto. Non riesco a fare qualcosa che sia in quanto sia in cui si trattava, ma mi sono riconosciuto. Ma questo è un problema che mi ha insegnato. Mi ha scoperto a te, E' un'imperazione di questo. E' solo questo. E' così, non potrebbe essere capito. Ogni volta... Ogni volta... Ogni volta... Ma... Io... Io... Sono perfetto! Non lo so... Sei tutt'altro che perfetto Ovviamente lo scontro è questo Vediamo subito Vabbè Arte ninja per te Contra attacco Tecnica Suprema Finisci l'avversario con Tecnica Suprema Oddio no Mi sembra No no Non ho capito come doverlo usare No vabbè Oddio Kabuto Dai No come cazzo funziona sta merda No non riesco a capire sarò monco ma non riesco a capire come cazzo si deve usare Wow Rating totale Sono No vabbè ma fa schifo Kabuto Oh mio Dio Che schifo Sì vabbè Sì vabbè saltiamo Ok Veramente Schifo Non mi piace Kabuto Oh Oddio Però c'è bo... Vabbè, non ho ancora capito come si usi sta mossa Ok Giuro Non mi fate mai più combattere con Kabuto, per favore Dovevo prendere a botte, non riesco a continuare a cercare di fare le varie cagate Madonna, oh, ok Schifo, veramente uno schifo totale Kabuto Non lo voglio mai più toccare Giuro su Dio, non lo voglio mai più toccare Kabuto Non fa per me, non è adatto a me Eh, forse non eri perfetto Ehi, ti sono tutti perfetto Ehi, l'ho, è l'ho È perfetto, non sono perfetto Ehi, l'ho, è perfetto È perfetto, non è perfetto Ehi, l'ho, non è perfetto Che cosa del mondo è un futuro? Ehi, l'ho Molti ricordi... eh? Ah... Wow Strappalacemi sta storia Almeno non per me perché non mi è mai piaciuto Kabuto però Che se la ridacchia sempre Credo che sia finito qua infatti L'uomo chiamato Kabuto fine Stato veloce intenso Vabbè direi che per questo video è tutto come sempre Se il video vi è piaciuto lasciate un like Commentate e iscrivetevi E al prossimo video con lo scontro finale Fra Naruto, Sasuke e Madara Ciao a tutti ragazzi